Attimi di paura martedì sera, poco prima delle 20, all'ingresso del popolare Rione Paterno di Eboli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Toyota Yaris di colore grigio ha terminato la sua corsa in una cartolibreria di via Gonzaga, strada parallela a Rione Paterno. La conducente della vettura è una donna di olevano sul Tusciano, che ha riportato una frattura ad un braccio. Sembra che la ferita abbia dichiarato agli inquirenti di aver subito il taglio della strada da parte di una vettura pirata, deviando così bruscamente la marcia della sua auto contro la cartolibreria. L'incidente ha provocato numerosi danni, tra cui la distruzione della sala cinesca, dell'attività commerciale, ma anche all'interno di velta la porta d'ingresso, mobili e materiale scolastico, arrecando tanni per circa 20.000 euro solo per l'attività commerciale, senza considerare quelli della vettura. La fortuna ha voluto che da pochi minuti il negozio era chiuso. Poco dopo, i titolari sono riusciti a chiamare un fabbro per chiudere almeno la cartolibreria ed evitare che qualcuno potesse approfittarne, scongiurando la beffa oltre al danno. Le forze dell'ordine hanno fatto defluire il traffico e raccolto tutti gli elementi utili anche per verificare la versione fornita dalla ferita, che ha parlato di una vettura pirata che sarebbe la causa dello strano incidente stradale in pieno centro cittadino.